Momenti di tensione prima di Akragas-Nissa, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Coppetale di Eccellenza. L'episodio si sarebbe verificato mercoledì pomeriggio davanti allo stadio esteneto di Agrigento, quando una decina di tifosi agrigentini, con il volto coperto e con in mano mazze e bastoni, avrebbero iniziato a tirare sassi e petardi contro il minibus dei tifosi della Nissa, che era appena arrivato nello spiazzale dello stadio. Fra i tifosi protagonisti dell'aggressione sarebbe stato individuato e denunciato un giovane in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato sarebbero quelle di resistenza pubblico ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atte di offendere e travisamento. Le indagini intanto proseguono nel tentativo di identificare gli altri soggetti coinvolti. Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, infine, i tifosi bianco-azzurri sarebbero stati dispersi, evitando così conseguenze più gravi. Grazie all'intervento. Grazie all'intervento.